Il mercato immobiliare in Capitanata mostra sempre più la difficoltà di poter accedere all'acquisto di una casa, un quadro delineato soprattutto dalla crisi economica attuale che tocca per la gran parte i giovani in un contesto in cui si inserisce proprio la figura della gente immobiliare che cambia e si aggiorna stando al passo con i tempi e soprattutto con le norme. È normale che le coppie giovani e comunque qualsiasi tipo di investimento noi consigliamo debba passare assolutamente da agenti immobiliari certificati, dico proprio certificati. Non serve più superare il corso delle 100 ore, fare l'esame in camera di commercio, ottenere il patentino. Oggi serve la certificazione dell'agente immobiliare e dell'agenzia che offre servizi. Noi ci troviamo in un periodo particolare, siamo felici di poter essere operatori in questo settore, in questo periodo per portare, per traghettare tutti i nostri colleghi che da 20 anni, 25 anni hanno iniziato questa professione nella nuova era. Fare da ponte tra il mercato immobiliare e il possibile acquirente, questa è la nuova mission dell'agente immobiliare. Una categoria di professionisti in continua e costante formazione per ricepire le norme attuali e conoscere i meccanismi economici e del mercato immobiliare. Due temi al centro del nuovo corso di formazione della figura dell'agente immobiliare che cambia volto e si aggiorna e soprattutto un agente immobiliare che resta al passo con le nuove norme e con quelle che sono poi le esigenze dei possibili acquirenti. Il corso di formazione si è svolto proprio questa mattina in Confcommercio e ha visto una massiccia presenza. Sicuramente l'aggiornamento professionale è d'obbligo in tutte le professioni. Nel settore immobiliare nell'ultimo periodo c'è stata una rivoluzione sotto il punto di vista proprio del marketing e della promozione degli immobili perché proprio fondamentalmente vendiamo un prodotto che è il prodotto casa ed ecco questo è il motivo proprio per cui abbiamo pensato di fare un incontro legato proprio al marketing e al settore immobiliare. Interverranno il professor Pierpaolo Magliocca dell'Università di Foggia e Paolo Penlacchio, formatore specializzato negli agenti immobiliari. E parleremo del marketing immobiliare, di tutte le nuove strategie di promozione e di come andare ad integrare il vecchio con il nuovo perché è fondamentale questo connubio.